Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in questo nuovo episodio della carriera con enfasi non indifferente perché è l'episodio numero 30 ed è uno degli episodi più importanti di questa carriera perché affronteremo il ritorno, o meglio abbiamo già affrontato in live per chi non l'avesse visto lo rivedrà, se lo rigusterà un doppio confronto molto importante ovvero il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Valencia e poi la sfida a Scudetto al Signal Iduna Park contro il Bayer Leverkusen prima però di partire vorrei contestualizzare il tutto perché io questa parte di video la sto registrando subito dopo il Romics quindi con una voce che è molto scesa però ne approfitto per ringraziarvi per chi fosse venuto a Romics Romics che tra l'altro mi ha ucciso perché come vedete qui cioè questa non c'è a caso no non pensate male per il raffreddore mi sentite anche dalla voce, non sto proprio benissimo ma detto questo prima di partire come al solito vi ricordo di seguirmi su Instagram ce l'ho meno in basso, trattino basso, vedemarconi, trattino basso e poi non meno importante in descrizione e nel primo commento trovate Divise Calcio Top per maglie, completini e tutta roba sportiva e da calcio a prezzi già bassissimi in più come vi ricordo sempre con il coupon hashtag Marconi avete anche una seconda maglia completamente gratis detto questo io partirei mostrandovi lo spettacolo che si è realizzato l'altro giorno in live e poi parliamo di questa seconda parte dell'episodio e quindi le altre due partite ma prima godetevi lo spettacolo Leverkusen batte Borussia Dortmund a 4 a 2 dovranno venire da noi a ritorno sarà tutta un'altra musica vince il Dortmund in Spagna al Mestaia verrà 2 a 1 contro un bel Valencia ma sono sicuro che verranno da noi a giocarsi la partita e metterci in difficoltà la sposta su sinistro va in porta Thomas Delaney c'è Ruiz Albono Ruiz Albono un gol bozzetto ciao Rudy ciao Fede buonasera e benvenuti al Signal Iduna Park è il ritorno dei quarti di Champions League è la sfida che stavamo aspettando da 12 mesi perché l'anno scorso l'abbiamo detto anche all'andata eravamo usciti proprio dai quarti contro il Manchester proprio davanti al nostro pubblico perdendo per 2 a 0 stasera la musica cambia perché abbiamo vinto 2 a 1 all'andata in Spagna dobbiamo soltanto mantenere il vantaggio e magari arrotondarlo ancora di più per affrontare una big europea una tra Barcellona, Atletico Madrid, Manchester City ma anche quelli che hanno perso all'andata che giocheranno in ritorno in casa e vorranno rimontare che atmosfera? che atmosfera? questo è uno stadio che sicuramente dà tanto ai propri calciatori ma anche quelli del Valencia saranno stimolati per questa atmosfera quindi bisogna stare attenti poi abbiamo visto anche la formazione del Borussia non è tanto speculativa per quanto riguarda il risultato dell'andata anzi è molto molto offensiva quindi ci aspettiamo un bellissimo calcio stasera siamo però pronti a partire con i commenti che arrivano i pronostici pure ma per il momento la tocca Simeone è cominciata Dortmund Valencia il quarto di ritorno sì perché Gades ha lasciato sul posto Kjerian Trippier è partito il 7 del Valencia che prende il fondo punta Ganji rientra e mette il cross ha chiuso ancora che Reiro poi vizza e se la dimentica Zazza e De Gea e qui De Gea fa una parata splendida ma che giocata ha fatto Zazza sombrero così come se nulla fosse su Milan Skriniar e poi sinistro al volo bravissimo David De Gea a mettere in calcio d'angolo sì ma oggi vediamo veramente degli esterni di altissimo livello cioè sono veramente tantissimi i giocatori di alto livello parte Pareco sul primo palo e questa volta De Gea malissimo sul colpo di testa di Müller va avanti il Valencia che per il momento non passerebbe ancora il turno ma sicuramente se il buongiorno si vede dal mattino non sarà una gara facile è proprio lui ne abbiamo parlato un giocatore molto scomodo che riesce sempre comunque a trovare la giocata a cui vado ad anticipare sul primo palo De Gea forse poteva fare leggermente meglio ma non proprio colpevole oddio oddio francamente Rudy gli passa tra le braccia rivediamo quella deve essere del portiere un colpo di testa che non mi è sembrato neanche fortissimo questa è una pavera effettivamente sì questa è una pavera secondo me si è una Zazza eh sì perché perde un altro panno sempre Skriniar quindi Zazza punta Can genera di rigore per il destro deviato e poi De Gea non evita il calcio d'angolo molto in affanno il Dortmund che non sembra quello visto nelle ultime settimane sì sta subendo un pochino questa pressione adesso del Valencia ma credo sia più una cosa psicologica intanto a te seguiamo il calcio d'angolo parte pareco sempre sul primo palo sempre per Müller che la devia verso De Gea che stavolta risponde presente e poi vuole rimettere il palone in gioco facendo magari pedalare incontro pietre Simeone la palla è buona anche se esce dalla sua area di rigore però diventa viene saltato il portiere Simeone papera da una parte e papera dall'altra uno a uno incredibile quello che stiamo assistendo in questi minuti De Gea prima aveva fatto una gran palata e poi una grossa incertezza sul calcio d'angolo ma qui cosa ha combinato il portiere del Valencia mamma mia esce in maniera si tratta di Neto tra l'altro che in carriera ha dimostrato di saperle fare le papera e qui esce a vuoto Simeone gli la tocca sotto le braccia e poi la mette in fondo al sacco Dortmund 1 Valencia 1 tutto in parità e cambia ulteriormente la storia di questa partita Sesto gol per Simeone che comunque è stato bravo a crederci fino alla fine perché lì ormai sembrava essere arrivato Norbert Neto e invece lui si è buttato in mezzo fino alla fine ci ha creduto e alla fine il gol è una giusta ricompensa al centro le torri arriva la palla verso Lozano Skriniar esce Neto poi Zielischi al volo deviazione Skriniar per mantenerla lì sempre il 37 che però è costretto a ricominciare adesso il tempo è finito per davvero è uno a uno prima parte di gara che ci ha fatto divertire due squadre che vogliono andare in semifinale per il momento ci andrebbe il Dortmund sì anche meditatamente devo dire passata in svantaggio forse i primi 10-15 minuti ha sofferto molto l'avanzata e la pressione del Valencia poi dopo è uscita alla distanza anche con un pizzico di fortuna grazie al gol di Simeone ma ha meritato abbiamo visto comunque che il Valencia ha cercato di iniziare nello stesso modo infatti ci sono parecchi spazi ora c'è il capo per De Lene che imbuca Simeone occhio a Roist al centro Simeone fino in fondo per terra cancio di rigore netto per l'intervento completamente no sense da parte di Maximovic rigore per il Dortmund al terzo del secondo tempo era successo anche nel primo tempo che loro si facessero trovare così tanto aggressivi che poi nella ripartenza facevano fatica a stare dietro agli attaccanti del Dortmund che sono velocissimi qui Simeone ha preso il tempo a Maximovic che non poteva fare altro che stenderlo lo abbiamo detto questa Champions la sente il numero 11 e vediamo un po' contro netto al quinto anzi al quarto della ripresa la rincorsa destro di Marco Reus palla da una parte portiere dall'altra 2-1 per il Dortmund che la ribalta e come è all'andata va in vantaggio è stato molto freddo è stato molto freddo quel capitano che sicuramente come abbiamo già detto è uno di quelli che ci tiene di più a questa partita quindi non era facile tenere comunque il sangue freddo in questa occasione ha spiazzato completamente netto adesso la partita si mette sui binari giusti perché il Valencia per passare ne deve fare due un minuto e mezzo più recupero siamo comunque al tramonto di una partita che non è ancora scritta ma manca poco perché in questo momento è poco il tempo per il Valencia per segnare due gol per regalarsi quindi il sogno della semifinale e la palla ce l'abbiamo noi quando sta per scoccare il novantesimo Delaney rientra affida a Simeone che perde palla torna buona per Delaney ha chiuso Coquelin in fallo laterale al novantunesimo e due euro per il Dortmund e con le mani è pronto Lozano per tenerla lontana dalla zona calda dalla nostra zona calda un po' più vicina alla loro per magari chiudere il discorso anche se il tempo è poco ma è poco per entrambe e sono loro ad averne bisogno ultimo giro d'orologio con Vaz che spinge l'ultima azione di partita serve Soler che rientra che Reiro ha capito tutto prende palla e gamba e fallo laterale a 20 secondi 20 secondi dalla fine della partita dalla fine del quarto di finale di Champions League col Dortmund avanti 2-1 col Dortmund che va in semifinale e vince come all'andata risultato a specchio abbiamo reagito abbiamo voluto questa qualificazione Rudy cercata voluta sofferta anche perché non è una squadra diciamo infallibile su alcuni punti di vista ma con il tempo secondo me ci può arrivare quando hai un sogno quando hai un obiettivo comune può arrivare veramente ovunque questi comunque risultati totali con il City che ha confermato il 3-0 dell'andata vincendo 1-0 al ritorno quindi 4-0 totale ai danni del Bayern Monaco passa il Dortmund e lo sapevamo già non basta il pareggio del Real Madrid in casa dell'Atletico nel derby perché c'era stato il 2-1 in favore dei golsioneros all'andata passa il Barcellona che conferma appunto anche la squadra spagnola la vittoria dell'andata contro le Chelsea quindi vedremo le semifinali credo ci siano stati i sorteggi Rudy io ho paura di andare a controllare perché è una semifinale le devi incontrare tutti prima o poi è vero e se pensi di volerla vincere se pensi di voler alzare quella coppa alla fine te la puoi meritare no? e allora in semifinale c'è il Barcellona io me lo sentivo me lo sentivo tantissimo con l'andata che sarà il 28 aprile martedì 28 aprile vediamo un po' dove però ah in casa nostra e non mi piace in casa nostra e non mi piace ci sta ci sta sarà una bella sfida soprattutto poi giocarsela di torno al Camp Nou ci sono partite diverse dalle altre è innegabile la gara di oggi l'aspettavamo da un girone perché potrebbe regalarci un sogno è la trentesima giornata di Bundesliga e il Signal Iduna Park tutto esaurito è Dortmund contro Leverkusen la partita a scudetto buon pomeriggio da Federico Marconi e Rudy Slatan benvenuto Rudy benvenuti a voi anzi ben ritrovati perché ci avete già fatto compagnia in live per la sfida contro il Valencia siamo tornati o meglio non ce ne siamo mai andati ma siamo qui anche per questa sfida che davvero aspettavamo da un girone la mia citazione post 4 a 2 a favore loro dovranno venire da noi al ritorno sarà tutta un'altra musica è cambiata la musica perché in testa in cima alla classifica c'è il Volussia Dortmund però oggi c'è una partita da giocare oggi c'è una partita da giocare che è stra importante perché è uno scorto diretto tra due squadre che stanno volando letteralmente il campionato e soprattutto mancano poche partite quindi uno scatto in avanti o un passo falso sarebbero comunque importanti per quello che è poi il risultato finale di questa stagione pertanto partita decisiva esattamente dopo questa ne mancheranno 4 il senso può essere se il Dortmund vince non chiude il discorso ma mette una serie ipoteca sul campionato se invece vince il Leverkusen e beh riapre tutto perché andrebbe a più 1 e poi le ultime 4 potrebbe succedere davvero di tutto infatti c'è comunque un dibattito su chi ha più pressione in questa partita in questo tipo di partite ma alla fine secondo me la pressione sta da entrambe le parti perché è una partita importantissima esatto io ti do una mia sensazione un mio desiderio oggi anche perché ce la giochiamo in casa anche perché alla notte abbiamo perso meritatamente tra l'altro ce li vogliamo mangiare ce li vogliamo proprio divorare abbiamo visto comunque stiamo vedendo in grafica Leverkusen in campo con un modulo che credo sia specchio sì perché 4-2-3-1 con Yassin Benzia un vecchio giovane no delle carriere di FIFA Alario a definire la rosa in avanti sarà l'unica punta come noi abbiamo Simeone che è sul pallone l'attesa è finita si parte col possesso del Dortmund forza ragazzi la ripeto vogliamo vincere al di là di quelli che sono possono essere i calcoli di una classifica che ci vede avanti Sancho arriva anche in zona tiro c'è Rois che però la palla sul destro e lo prova non trova la porta è stato bravissimo Tierney a chiudere adesso a te dalla parte opposta Rois un po' la Totti di prima per Christian Pulisic che manda al bar Grimaldo poi vuole crossare a rimorchio perché c'è Rois che voleva buttare giù tutto ma tira centrale con Martinez che crossa verso Alario allontana sempre Tielemans palla viva ancora per Benzia al limite lascia Dembélé che in buca e il Leverkusen in vantaggio il gol di Alario al minuto 31 sono avanti gli ospiti che in questo momento tornano in testa alla classifica e qui hanno fatto hanno fatto tutto bene palla da sinistra verso destra in avanti che torna dietro e poi in buca ancora una volta ad Alario la difesa si fa trovare impreparata qui la genialata la fa Dembélé guarda perché potrebbe calciare invece di prima in buca proprio per Alario che parte alle spalle di Aganji in posizione regolare e qui De Gea può far poco onestamente si no veramente è stato bravissimo poi Lucas Alario a girarla in porta al giocatore che è comunque in forma in questo campionato e si vede è ancora lunga e adesso dobbiamo dimostrare se effettivamente siamo più forti un cambio nel Dortmund entra Irving Lozano al posto di Pulisic e allora si ricomincia con la seconda parte della sfida Scudetto Borussia deve essere più bravo a scegliere i momenti in cui attaccare soprattutto quando non lo fanno benissimo il filtro davanti al centrocampo l'abbiamo già detto ancora di Dembélé soprattutto quando questi due sono saltati allora lì si deve cercare la giocata in verticale Piotr Zielinski Sancho fa proseguire intelligentemente e anche elegantemente per Tierney che rientra c'è ancora la palla dentro per Sancho che dà un bacio al pallone col sinistro mette a sedere Kadeschi e fa 1 a 1 ma che gol ha fatto qui che gol ha fatto splendida la palla di Tierney che sembrava praticamente impossibile ma poi il tocco sotto di Sancho è qualcosa di delizioso il 7 al minuto 7 del secondo tempo Kadeschi forse un pochino colpevole ma veramente credo che non se lo aspettasse splendida palla e splendido il tocco sotto adesso vedremo come reagiranno le due squadre diciamo che a volte ci piacciamo un po' troppo al limite ma qui Tielemans si piace e ci piace tanto in scivolata recupera il pallone Roy si imbuca per Jadon Sancho cerca spazio il 7 lascia lì Weiser poi vuole il destro a giro respinto c'è Zielinski al limite per Roy Zoradino Calcia Calcia Marco Lois 2-1 per il Dortmund non poteva non segnare oggi il capitano che ribalta tutto e fa 2-1 la tocco a Jadon Sanchi ma non basta ancora lui ancora lui proprio contro il Valencia aveva segnato sempre in questo stadio sempre in questa porta quella volta dal dischetto ma qui è stato freddissimo quasi un rigore in movimento per lui che batte da Jadon Sanchi veramente non ci può far nulla Lozano aspetta Trippier eccola la valla per il 2 che la tiene in campo non so come e poi serve Luiz Alberto al centro ha preso il tempo Simeone e ha capito tutto il difensore che era Grimaldo e tocca in calcio d'angolo a un minuto e mezzo quanto è fastidioso Simeone è vero perché fa sempre quei movimenti in profondità e devi andarlo a chiudere continuamente è fastidiosissimo è pronto Tieleman all'ottantanovesimo la vale verso Dele e di traversa e poi il tocco di Giovanni Simeone che sentenzia in Leverkusen 3-1 è finita siamo a più 5 eh sì ormai è veramente finita stavamo lodando appunto la voglia e la forza fisica di Simeone e qui è stato ripagato ha fatto una gran partita e questo è un gol facile facile ma lui c'è e quella è la differenza si attende soltanto il fischio finale a Dortmund Lozano protegge l'ultimo pallone finisce qui il Dortmund batte il Leverkusen 3-1 il Dortmund ha 4 giornate dalla fine e ha più 5 sulla seconda e se non è ancora scudetto manca poco manca poco manca poco questo assolutamente sì però adesso bisogna solo godersi questa vittoria perché è una partita che è attesa da tanto tempo e alla fine l'hanno vinta davanti ai propri tifosi quindi va va goduta complimenti veramente a tutti e ci eravamo lasciati proprio così con questa classifica dopo 30 partite di campionato 71 punti il Borussia Dortmund 66 il Leverkusen quindi a più 5 adesso dobbiamo rimanere concentrati da qui alla fine del campionato avete visto che c'è stato anche sorteggiato il Barcelona in Champions League ora voglio mostrarvi un'altra cosa che sono questi meravigliosi occhiali presi a Romics cioè ragazzi adesso fatemi sapere nei commenti e anche qui del sondaggio se secondo voi mi stanno bene questi occhiali perché io faccio fatica a trovare un paio di occhiali che mi stiano bene ma questi sono spettacolari nel frattempo però ci arriva un'offerta molto allettante per Rafael Guerreiro da parte del Liverpool 31 milioni e 2 va detto che Guerreiro si è lamentato recentemente per il suo scarso impiego che poi non è mai vero perché il titolare è lui gioca spesso Tierney e perché gioca spesso Tierney perché è un fenomeno è un treno e come vi ho detto spesso lo voglio far giocare titolare nella prossima stagione e quindi a questo punto io direi che Guerreiro può partire ovviamente non parte adesso partirà poi a fine stagione prenderemo se servirà un altro terzino però per il momento io direi l'alziamo leggermente ma possiamo venderlo tra l'altro 31 milioni per un giocatore che ha un valore di 22 mi sembra già tanto però se riusciamo ad alzarla a 35 è tanto di guadagnato 35 tondi tondi ok a fare fatto pagheremo la somma richiesta e quindi dalla prossima stagione Rafael Guerreiro sarà un nuovo calciatore del Liverpool dato che effettivamente aprile è giunto o quasi al termine è tornato anche Hakim Ziyech dall'infortunio quindi ovviamente non giocherà contro lo Stoccarda ma forse potrebbe trovare spazio contro il Barcellona nell'andata delle semifinali di Champions a questo punto ragazzi io direi che l'episodio potrebbe anche chiudersi dopo lo Stoccarda quindi dopo 3 partite e possiamo aprire il prossimo al top anche per creare un po' di hype con Borussia Dortmund e Barcellona riparte lo stesso il Dortmund c'è il lancio verso Pulisic la valle è un po' corta ma in difficoltà la difesa quindi Luis Alberto al limite aspetta Sancho lo fa salire occhio al destro a giro di Jadon Sancho che al minuto 28 fa 1 a 0 per il Borussia Dortmund è Sancho l'uomo della provvidenza dopo il gol dell'1 a 1 pesantissimo contro il Leverkusen segna anche un pesantissimo 1 a 0 contro lo Stoccarda che avvicina sempre di più gli uomini di Marconi al titolo pronto Zielinski che va con il destro a cercare a Kanji che prende l'ascensore e fa 2 a 0 per il Borussia Dortmund al minuto 36 e a questo punto cominciamo a stare leggermente più sereni e a prenderci forse anche quella mezza rivincita contro lo Stoccarda visto il risultato di Defoe Bepokal ricorderete siamo usciti contro di loro ai rigori altro angolo per il Dortmund sempre Zielinski stavolta per David Luiz questo Witzel non la prende nessuno poi la palla resta lì Olmo riesce ad allontanare in qualche modo ad un minuto dal termine del primo tempo Pulisic col sinistro verso Simeone e vabbè il Ciolito la gira così fa 3 a 0 e fa impazzire tutti incredibile il gol del Ciolito non è il primo non è il primo perché c'è un episodio che vi lascio qui sopra un gol d'antologia il titolo con Simeone che al volo anche in quel caso in maniera forse non so se è più bella quella o più bella questa gol pazzesco cross di sinistro di Pulisic al volo Simeone si coordina perfettamente Zieler non la vede neanche partire poi non so se era contro di loro sempre questa non me lo ricordo questo dettaglio non lo ricordo quando mancano 10 secondi e quindi praticamente nulla nulla al termine vince il Dortmund esultano tutti ed esultano davvero tanto perché a questo punto nonostante fossimo in trasferta ho sentito un'esultanza forse anche più forte di quella post Leverkusen perché vincere oggi contava tanto Leverkusen che ha pareggiato e quindi Leverkusen che sta dicendo addio allo scudetto con le sue stesse mani mi ricordo che non è la Serie A non ci sono 20 squadre ce ne sono soltanto 18 e quindi 34 partite totali alla fine ne mancano 3 e noi abbiamo praticamente vinto il campionato è bella questa cosa perché vuol dire che contro il Barcellona sia andata che ritorno giocheremo con con la testa a mille e vi ricordo l'appuntamento che sarà ovviamente ad aprire il prossimo episodio Borussia contro Barcellona per il momento ci fermiamo qui lasciate un like se vi è piaciuto l'episodio ma soprattutto per la mia voce che non c'è più un bacione never give up e bella rega a presto a presto